Sta bene, il bambino colpito dal virus Dengue è stato dimesso dall'ospedale Sandonato di Arezzo dove si trovava ricoverato in pediatria in alcuni giorni e stato anche in isolamento. Rientrato da un viaggio a Cuba, aveva manifestato i sintomi della malattia ed era stato ricoverato. La febbre per fortuna non ha dato luogo ad alcuna complicanza. Dato il tempo trascorso, fanno sapere dalla ASL dal momento dell'infezione, può dirsi scongiurato il rischio che possa contagiare altre persone qualora venisse punto da un insetto vettore come la zanzara tigre. A Cigiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana dove il bambino aveva soggiornato alcuni giorni, è già stata effettuata la disinfestazione. Nel raggio di 200 metri dall'ospedale Sandonato di Arezzo ci sarà invece tra la notte del 12 e il 13 agosto. Una disinfestazione precauzionale, fanno sapere i due sindaci che hanno firmato le due ordinanze. Un tema, quello della disinfestazione per eliminare la presenza di zanzare e altri insetti, soprattutto in estate, che è tornato di grande interesse. Molti cittadini che ci hanno segnalato che nelle loro zone di residenza sarebbe quanto mai necessaria.